Marito e moglie stanno in casa e la moglie, molto carina, appena fatto la doccia, sta girando per casa in accappatoio. Quando a un certo punto suona il campanello, allora il marito gli fa Cara, vai ad aprire tu per favore? Sì, sì, caro, vado io. Insomma, la moglie va ad aprire la porta e vede che è il portiere. Il portiere che appena la vede gli fa Mamma mia, quanto sei bella! Se te apri l'accappatoio e te fai vedere nuda, te do subito 500 euro in contanti. Insomma, lei ci pensa un attimo, guarda dietro per vedere se c'è il marito e gli fa il portiere E vabbè, dai, ce sto, per 500 euro ce sto. Insomma, se apre l'accappatoio, il portiere la guarda e gli fa Mamma mia, quanto sei buona! Guarda, se me la fai toccar per benino, te do altri 500 euro. Insomma, questa ci pensa e gli fa E vabbè, dai, però sbrigate! Insomma, il portiere la tocca, richiude la porta, sta signora, va a dar marito E il marito gli fa Chi era la porta, cara? E lei Eh, guarda, era solo il portiere Ah, ho capito Senti, che t'ha ridato i 1000 euro che ho prestato ieri, per caso?